Sì, manda via, Gerry, vai! No! Guarda, Giorgio! No! Sì! Non amo perdere, sono molto scorretto. È scorretto. Preferisco il possesso, perché così il mio avversario perde la testa. Quando trovo spazio, faccio tanti gol. Amo fare skill per humilare l'avversario. Sì! Andai, Gerry, vai! E non mi tocca... Fuori! Sì! Sì! Oh! Oh! Ehi! Che fanno i palli, che... Metti il fisico! Ma che fisico! Sai calmo! No! No! Sì! 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 Corri avanti con qualcuno! Ma scavacchini! Sì! 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 Aspetta, 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 aspetta! Aspetta, 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 aspetta! Oddio! Sì! No, Davide, ma te giochi proprio con i piedi. Con i piedi, davvero! Buono fortuna. Ma guarda la mano! No, bravo! Ma che fa il catenaccio! E' il catenaccio, gabbè! Ma come sta? Paccalo! Ma io così non vedo! Io mi faccio il catenaccio, gabbè! Uuuuuh! Sì! Uuuuh! Beh, ma che p***o c'ha? Oh, non è p***o. Chi è? Ma che c'ha? I triangoli in testa? Bravo. Te p***o. No. Ma che sta a fare? Davvero, vai. Scorretto, comunque. So, è scorretto. Congratulations. Grazie. Sei scorrettissimo, sei.